benvenuti ragazzi benvenuti buongiorno allora dopo il video del guarda ieri sera ho caricato il video alle 4 di mattina quindi ho dormito tre ore come potete vedere sono ancora bello pettinato perché è mattina presto ieri sera quando sono tornato a casa sono entrato al laboratorio mi ha controllato l'inviato fotovoltaico e sentivo che c'era un problema ho notato subito il problema purtroppo le batterie hanno perso acido colpa mia posizione sbagliata però vediamo cosa è successo giro il telefono situazione questa ieri sera alle 9 ho tirato giù tutte le batterie la batteria segnata 1 adesso c'è riflesso e la batteria 2 usate la girata la batteria numero 2 che mi sono segnato hanno perso acido e rispettivamente dal tubo e dallo sfiatatoio qua alto che ha questa batteria e sono due batterie diverse e però hanno risentito dello stesso problema le altre batterie non hanno risentito di questo problema però ragazzi è fatto un danno l'anomaria e la perdita dell'acido è avvenuta su due batterie diverse sono simili ma leggermente diverse nel senso una allo sfiato con il tubo l'altra non ce l'ha una al segnalino con la pallina e l'altra no le batterie avevo fatto manutenzione poco tempo fa aveva aggiunto dell'acqua distillata però secondo me collegando i nuovi pannelli abbiamo buttato dentro troppi ampere per questo per questa potenza di batterie e le batterie da auto non riuscendo ad assorbire troppi appare hanno cominciato a scaldare quel poco che hanno rilasciato liquido e ho fatto un danno vediamo il sul impianto fotovoltaico qui ragazzi non spaventatevi però ho staccato tutto sonda cavi tutto e per aver spento impianto tirato giù e ragazzi la colpa è mia perché avevo messo le batterie praticamente lì sopra una delle batterie ha colato qua e ha ossidato la vernice dell'inverter inverter che dovevo comunque cambiare però adesso si è rovinato dovrò andarlo ripristinare non mi sembra che l'acido sia entrato però per sicurezza questo lo stacco lo porto a capannone lo apro gli faccio una pulizia interna dalla polvere sistema un attimo la vernice e vado a vedere che comunque l'acido non si è entrato dentro la scheda elettronica ho staccato tutto per sicurezza perché se fosse entrato acido nella scheda avesse danneggiato qualcosa e accendere questo dispositivo non sarebbe sicuro potrebbe anche prendere fuoco quindi non è il caso e ora lo stacco e vado a fare manutenzione l'impianto è attualmente spento come potete vedere tutto giù perché comunque le batterie non sono collegate e per aver spento tutta questa piattaforma qua la sposto sotto perché adesso allo spazio purtroppo non dovevo farlo prima ma la linea degli eventi è quanto segue e film moment later anzi questa questo è il tempo di adesso il poco tempo che ho e la serie di imprevisti che mi stanno capitando quindi li sto affrontando uno alla volta uno alla volta apprendendola con filosofia non c'è problema risolviamo tutto allora le batterie io ho tre teorie allora uno potrebbe essere l'involucro danneggiato le batterie hanno un anno e tre mesi sono da auto hanno fatto circa 400 cicli e che sarebbe la loro vita utile quindi praticamente sto pensando o ho teorizzato che l'involucro qua essendosi gonfiato leggermente perché ho buttato dentro praticamente troppi ampere e si saranno un po su riscaldate aperte del liquido praticamente passa internamente bisognerebbe aprirle smembrarle per vedere bene se è un problema di di celle se è un problema di involucro della plastica se è un problema di tenute bisognerebbe essere un esperto per capire un esperto di batterie auto per capire dov'è veramente il problema se qualcuno sul canale è più esperto di me in batterie e conosce già questo tipo di problematica lo scriva nei commenti un aiuto sarebbe gradito anzi sarebbe estremamente prezioso torniamo alla nostra lavagna allora quindi abbiamo detto troppi ampere io questo evento qua è accaduto praticamente vicino al ai collegamento dei nuovi pannelli ho aumentato di ben sei ampere l'entrata sul sul fotovoltaico probabilmente le batterie non sono non sono dimensionate per queste per questo amperaggio colpa mia ho sbagliato io quindi la mia teoria potrebbe essere questa oppure le batterie sono guaste semplicemente hanno finito la loro vita utile cominciano a dare problemi buttano fuori acido si scaldano si gonfiano eccetera potrebbe anche essere questo il caso e quindi quelle due batterie li vanno buttate e vanno sostituite poi ci saranno anche le altre due che hanno la stessa vita magari funzioneranno altri due mesi come una settimana e teorizzo 12 celle non vanno sono danneggiate quindi andrò a misurare praticamente ogni singola cella qua ragazzi apro e vado a fare un ponte con il tester tra il polo e liquido e vado a misurare ogni singola cella vediamo se arriviamo due volte se trovo qualcuna che non ci va allora quello il problema a capannone o un tester per batterie farò un controllo così e densimetro ecco prima di ricollegare tutto comunque do una sistemata l'inverter lì anche se lo devo cambiare ma in teoria questo poi lo lascerò qua aggiungerò un inverter in più e farà un servizio diverso da questo perché questo mi va bene perché ha un basso autoconsumo cioè per restare acceso consuma pochissimi aperti mi dispiace molto che si è successa questa cosa colpa mia le batterie ragazzi non mettetele lì vanno messe lì infatti oggi pomeriggio quando torno stafferò a muro le batterie rimanenti quelle le due rimanenti e poi vedremo come sistemare anche perché l'inverno si sta avvicinando io ho bisogno di energia bene facciamo le ultime considerazioni ragazzi cosa combinato avete visto ragazzi cosa combinato assolutamente può succedere può succedere a chiunque l'unica cosa di positiva è che le batterie in acido sono abbastanza facili da gestire non è successo nulla di grave un po di colore al limite l'inverter vabbè poi lo controlliamo vediamo cosa come come agire comunque costava 50 euro un po mi dispiace perché mi sta pure un po simpatico il nostro inverter però però dai vediamo vediamo dai non parliamo troppo dell'inverter un po mi dispiace può capitare può capitare a chiunque e ragazzi le batterie non sopra mettetele sotto io ho problemi di spazio le ho messe lì era propositivo nel spostare il prima possibile batterie sono arrivato tardi ovviamente la linea temporale dei miei eventi che mi stanno capitando l'avete vista in poco tempo tanti problemi però li stiamo superando e probabilmente ci sarà un perché su questa cosa però lo scoprirò bene ragazzi da qui è tutto carico le due batterie malfunzionati sul mio furgone transit che avete visto il video su cui cambio l'olio sta con l'inverter velocemente sono quattro viti e due morsettini dei cavi e lo porto via e vado a fare tutti i testing tutto manutenzione tutta la manutenzione di cui necessitano queste cose se le batterie saranno da cestinare ragazzi hanno fatto 400 cicli circa di carica scarica e hanno cominciato a dare i primi problemi primi problemi hanno cominciato a manifestarsi quando collegato i due nuovi pannelli e quindi aumentato la l'invio di ampere alle batterie probabilmente dovevo forse abbassare le per leggermente invece l'ho lasciato tarato come era prima ho sbagliato secondo me ha sbagliato forse non sono le batterie ma sbagliato io bene ragazzi che da qui è tutto vediamo come va tenterò di risolvere questo problema con la logica e con le misurazioni perché l'unica cosa che si può fare adesso è misurare e controllare ogni singolo componente per bene testarlo quindi vanno fatte anche delle cariche scariche su queste batterie che hanno perso acido e vediamo come vanno come se saranno ancora buone per essere reinstallate sul l'impianto fotovoltaico e few moments later staccato l'inverter collegato come potete vedere si è tutto ossidato e la vernice è diventata morbida però mi sembra che non sia entrato almeno da fuori l'acido però devo controllare perché se vedete le gocce sono concentrate lungo questo bordo qua che è l'aggiunzione la parte di lamierino del pannellino quindi devo andare aprire controllare ragazzi poi c'era una seconda cosa che dovevo fare questo inverter era la pulizia di questa ventola ok vediamo dai come si può vedere l'acido non è entrato e non ha danneggiato non ha danneggiato la scheda bene buono 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 scala di 10 ok 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 10 volt esatto scala di 50 12 perfetto celle a posto ok carica riceve anche 4 ampere e passa parichiamo lentamente sto disassemblando tutto e sposterò le batterie lì e poi quel ripieno la lo terrò per altre cose per altre strumentazioni ragazzi non spaventatevi è tutto molto semplice fuori fatti per le nuove staffe con il nostro amico Itachi trappano piattaforma spostata piattaforma in bolla perfetta preparato l'appoggio ora reinstallo l'inverter che avete visto come ho sistemato l'inverter reinstallato adesso il nostro inverter è un reduce di guerra qui è un po' più opaco qui è un po' più lucido però nel complesso non si presenta male la scheda è perfetta l'ho pulito dentro l'ho un po' sistemato bene sembra quasi nuovo siamo in dirittura di arrivo devo cambiare questo cavo qua perché è troppo corto fa un giro che non mi piace ragazzi ho finito ho staffato nuovamente le batterie ho rifatto tutti i collegamenti ora andiamo accendere l'impianto ho tolto i due fusibili dei nuovi pannelli perché prima farò un test con i miei soli pannelli fuori quelli da 80 e poi successivamente prenderò un'altra batteria la aggiungerò questo impianto e reinserirò gli altri due pannelli nuovi perché da quello che ho potuto misurare il problema è che queste batterie qua non sopportano tutti quegli ampere in entrata quindi abbiamo bisogno di più batterie io andrò a fare una prova con una batteria in più ecco accendiamo l'impianto ragazzi qua ho fatto così ho reinserito le batterie ho staffato tutto nuovamente ho messo una staffa in più prima ce ne erano solamente due allora accendiamo l'impianto più meno e dovrebbe accendersi le pever ok le pever a tutte le sue cose come sempre allora 12 9 il banco batterie quindi lo legge ora andiamo a tirarsi i pannelli c'è ancora un po di sole andiamo sulle pevere vediamo se li vede batterie 24 gradi ho inserito la sonda sulla penultima batteria adesso 13 volte 1.3 ampere ok sono le 6 di sera e va più che bene con due soli pannelli accendiamo nuovamente l'inverter guardatelo ripristinato anche sopra il colore non è praticamente uguale però ci accontentiamo è un reduce di guerra il nostro inverter inverter funziona l'ho anche tutto pulito dentro accendiamo la linea ecco qua linea accesa a posto bene l'impianto è attualmente funzionante con due pannelli acquisterò una nuova batteria la aggiungerò o sopra o sotto ma a questo punto ho visto l'esperienza meglio sotto e faremo un altro test vedremo dopo due ore e mezza di lavoro delirio totale ragazzi delirio totale adesso si stiamo dopo un po' di ordine ho finito l'impianto è un po' di ordine